Ciao ragazzi, oggi vi suonerò Duda, pronto, partenzo, VIO! Allora, se volete un altro video, andatelo a recuperare, è il primo che ho fatto, che è quell'arrangiamento di A.V.C., la canzone si chiama The Knights, che è questa qua, ve lo suono al primo pezzo. Capito? Questa qua, che vi ho ammesso qualche giorno fa. Ciao! Grazie a tutti!